Siamo felici di essere ospiti a questa prima edizione di Green Economy Award. Noi ci stiamo espandendo in tutta Europa e abbiamo una forte presenza in Italia perché noi come target abbiamo la comunità di tennis e di paddle, quindi l'Italia come comunità sportiva di tennis e paddle è molto forte, sta sempre crescendo, è giusto che si ponga attenzione verso lo sport e di pari passo noi la mettiamo sulla sostenibilità.